Si conclude oggi con circa 1800 tessere sottoscritte la prima fase della campagna abbonamenti dell'Avellino per la nuova stagione calcistica. Una prima fase andata in archivio non senza un po' di rumore, dovuto soprattutto alla questione stadio. I biancoverdi e il comune di Avellino non hanno subito trovato un accordo e i lupi rischiavano di giocare altrove. Da qui i tifosi irpini non hanno subito affollato i botteghini per capire cosa potesse succedere e successivamente, quando hanno appurato che l'Avellino giocherà a casa sua all'Appartegno Lombardi, avevano chiesto una proroga della prima fase a prezzi vantaggiosi. Proroga che non è arrivata e non arriverà. Inizia infatti la seconda fase con la tribuna venore a 1000 euro intero, tribuna Montevergine centrale 500 euro intero senza riduzioni, tribuna Montevergine laterale 280 euro intero, 230 euro ridotto, 100 euro ridotto baby, tribuna Terminio a 230 euro intero, 190 euro ridotto, curva su 260 euro intero, 140 euro ridotto. Gli abbonamenti ridotti sono riservati alle donne, nati prima del 31 dicembre 1952, ai ragazzi nati dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, ai militari, alle forze dell'ordine in servizio e quindi non in concedo. La società ha inoltre attivato una speciale promozione per le famiglie. A tre abbonati dello stesso nucleo familiare saranno emesse tessere stagionali ridotte. A quattro abbonati dello stesso nucleo familiare saranno emesse tre tessere stagionali ridotte, più una gratis se nello stesso settore delle altre tre. In caso di abbonamenti in settori differenti il quarto gratuito sarà del settore meno costoso.